Libro del profeta Daniele, capitolo 3 I consiglieri di Stato, gli esperti nella legge e tutte le autorità delle province, perché venissero alla inaugurazione dell'immagine che il re Nebuchadnezzar aveva fatto erigere. Allora i satrapi, i prefetti e i governatori, i giudici, i tesorieri, i consiglieri di Stato, gli esperti della legge e tutte le autorità delle province, si radunarono insieme per l'inaugurazione dell'immagine fatta erigere dal re Nebuchadnezzar, e si misero in piedi davanti all'immagine che Nebuchadnezzar aveva fatto erigere. Quindi l'araldo gridò a gran voce A voi, popoli, nazioni e lingue, è ordinato che, appena udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del satterio, della zampogna e di ogni genere di strumenti, vi prostriate per adorare l'immagine d'oro che il re Nebuchadnezzar ha fatto erigere. Chiunque non si prostrerà per adorare, sarà subito gettato in mezzo a una fornace di fuoco ardente. Così, non appena tutti i popoli udirono il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio e di ogni genere di strumenti, tutti i popoli, nazioni e lingue si prostrarono e adorarono l'immagine d'oro che il re Nebuchadnezzar aveva fatto erigere. Per questa ragione, in quel momento, alcuni caldei si fecero avanti e accusarono i giudei. Prendendo la parola, dissero al re Nebuchadnezzar Tu, o re, hai emanato un decreto, in forza del quale chiunque ha udito il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni genere di strumenti, deve prostrarsi e adorare l'immagine d'oro. E chiunque non si prostra e non adora, deve essere gettato in mezzo a una fornace di fuoco ardente. Or ci sono alcuni giudei che tu hai preposto all'amministrazione degli affari della provincia di Babilonia, Shadrach, Meshach e Abednego. Questi uomini, o re, non prestano alcuna considerazione a te, non servono i tuoi dei e non adorano l'immagine d'oro che tu hai fatto erigere. Allora Nebuchadnezzar, ad irado e furibondo, comandò di far venire Shadrach, Meshach e Abednego. Così questi uomini furono condotti davanti al re. Nebuchadnezzar rivolse loro la parola e disse loro Shadrach, Meshach e Abednego È vero che non servite i miei dei e non adorate l'immagine d'oro che io ho fatto erigere? Ora, non appena udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni genere di strumenti. Se siete pronti a prostarvi per adorare l'immagine che io ho fatto, bene, ma se non l'adorate, sarete subito gettati in mezzo a una fornace di fuoco ardente. E qual è quel Dio che potrà liberarvi dalle mie mani? Shadrach, Meshach e Abednego risposero al re dicendo Oh Nebuchadnezzar, noi non abbiamo bisogno di darti risposta in merito a questo. Ecco, il nostro Dio, che serviamo, è in grado di liberarci dalla fornace di fuoco ardente e ci libererà dalla tua mano, o re. Ma anche se non lo facesse, sappi, o re, che non serviremo i tuoi dèi e non adoreremo l'immagine d'oro che tu hai fatto erigere. Allora Nebuchadnezzar fu ripieno di furore e l'espressione del suo volto mutò nei riguardi di Shadrach, Meshach e Abednego. Riprendendo la parola, comandò di riscaldare la fornace sette volte più di quanto si voleva riscaldarla. Comandò quindi ad alcuni uomini forti e valorosi del suo esercito di legare Shadrach, Meshach e Abednego e di gettarli nella fornace di fuoco ardente. Allora questi tre uomini furono legati con i loro calzoni, le loro tuniche, i loro copricapo e tutte le loro vesti e furono gettati in mezzo alla fornace di fuoco ardente. Ma poiché l'ordine del re era duro e la fornace era estremamente surriscaldata, la fiamma del fuoco uccise gli uomini che vi avevano gettato Shadrach, Meshach e Abednego. E questi tre uomini, Shadrach, Meshach e Abednego, caddero legati in mezzo alla fornace di fuoco ardente. Allora il re Nebuchadnezzar, sbalordito, si alzò in fretta e prese a dire ai suoi consiglieri «Non abbiamo gettato tre uomini legati in mezzo al fuoco?» Essi risposero e dissero «Certo, re!» Egli riprese a dire «Ecco, io vedo quattro uomini slegati che camminano in mezzo al fuoco e non hanno subito alcun danno e l'aspetto del quarto è simile a quello di un figlio di Dio». Poi Nebuchadnezzar si avvicinò all'apertura della fornace di fuoco ardente e prese a dire «Shadrach, Meshach e Abednego, servi del Dio Altissimo, uscite e venite qui». Allora Shadrach, Meshach e Abednego uscirono di mezzo al fuoco. Quindi i satrapi, i prefetti, i governatori e i consiglieri del re si radunarono per osservare quei uomini. Il fuoco non aveva avuto alcun potere sui loro corpi. I capelli del loro capo non erano stati bruciati, i loro mantelli non erano stati alterati e neppure l'odore di fuoco si era posato su di loro». Allora Nebuchadnezzar prese a dire «Benedetto sia il Dio di Shadrach, Meshach e Abednego che ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi che hanno confidato in lui. Hanno trasgredito l'ordine del re e hanno esposto i loro corpi alla morte piuttosto che servire e adorare alcun altro Dio all'infuori del loro Dio. Perciò io decreto che chiunque, a qualsiasi popolo, nazione o lingua appartenga, dirà male del Dio di Shadrach, Meshach e Abednego si è tagliato a pezzi e la sua casa si è erodotta in un letemaio perché non c'è nessun altro Dio che possa salvare in questo modo». Allora il re promosse Shadrach, Meshach e Abednego nella provincia di Babilonia. Libro del profeta Daniele, capitolo 3 Libro del profeta Daniele, capitolo 4 Il re ne bucca da nestare a tutti i popoli, a tutte le nazioni e lingue che abitano su tutta la terra. La vostra pace sia grande. Mi è sembrato bene di far conoscere i segni e i prodigi che il Dio Altissimo ha fatto per me. Quanto grandi sono i suoi segni e quanto potenti i suoi prodigi. Il suo regno è un regno eterno e il suo dominio dura di generazione in generazione. Io, Nebucadane Star, ero tranquillo in casa mia e fiorente nel mio palazzo. Feci un sogno che mi spaventò. I pensieri che ebbi sul mio letto e le visioni della mia mente mi terrorizzarono. Così diedi ordine di condurre davanti a me tutti i savi di Babilonia perché mi facessero conoscere l'interpretazione del sogno. Allora vennero i maghi, gli astrologi, i caldei e gli indovini ai quali raccontai il sogno ma essi non poterono farmi conoscere la sua interpretazione. Infine si presentò davanti a me Daniele chiamato Belshazzar dal nome del mio Dio e in cui lo spirito degli Dei Santi e io gli raccontai il sogno dicendo Oh Belshazzar, capo dei maghi, poiché io so che lo spirito degli Dei Santi è in te e che nessun segreto ti preoccupa. Raccontami le visioni del mio sogno che ho fatto e la sua interpretazione. Le visioni della mia mente mentre ero sul mio letto sono queste. Io guardavo ed ecco un albero in mezzo alla terra la cui altezza era grande. L'albero crebbe e divenne forte. La sua cima raggiungeva il cielo e si poteva vedere dall'estremità di tutta la terra. Il suo fogliame era bello, il suo frutto abbondante e in esso c'era cibo per tutti. Sotto di esso trovavano ombra le bestie dei campi, gli uccelli del cielo dimoravano fra i suoi rami e da lui prendeva cibo ogni essere vivente. Mentre sul mio letto osservavo le visioni della mia mente ecco un guardiano, un santo, scese dal cielo, gridò con forza e disse così Tagliate l'albero e troncate i suoi rami, scuotete le sue foglie e disperdete nei frutti. Fuggano gli animali di sotto a lui e gli uccelli di tra i suoi rami. Lasciate però nella terra il ceppo delle sue radici legato con catene di ferro e di bronzo fra l'erba dei campi. Sia bagnato dalla rugiata del cielo e abbia con gli animali la sua parte nell'erba della terra. Il suo cuore si è cambiato e invece di un cuore d'uomo gli si è dato un cuore di bestia e passino su di lui sette tempi. Questa cosa è decisa da un decreto dei guardiani e la sentenza viene dalla parola dei santi perché i viventi sappiano che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e che egli lo dà chi lo vuole e vi innalza l'infimo degli uomini. Questo è il sogno che io re Nebucadane Star ho fatto. Ora tu Bershassar danno l'interpretazione perché nessuno dei savi del mio regno è in grado di farmi conoscere l'interpretazione ma tu lo puoi perché lo spirito degli dei santi è in te. Allora Daniele il cui nome è Bershassar rimase per un momento spaventato i suoi pensieri lo turbavano e re prese a dire Bershassar non ti turbino né il sogno né la sua interpretazione. Bershassar rispose e disse Signor mio il sogno si avveri per i tuoi nemici e la sua interpretazione per i tuoi avversari l'albero che tu hai visto che era divenuto grande e forte la cui cima giungeva al cielo e si vedeva da tutte le parti della terra il cui fogliame era bello frutto abbondante in cui c'era cibo per tutti sotto il quale dimoravano le bestie dei campi e sui rami facevano il nido gli uccelli del cielo sei tu o re che sei diventato grande e forte la tua grandezza è cresciuta ed è giunta fino al cielo e il tuo dominio fino all'estremità della terra quanto poi al guardiano un santo che il re ha visto scendere dal cielo e dire tagliate l'albero e distruggetelo ma lasciate nella terra il ceppo delle sue radici legato con catene di ferro di bronzo fa l'erba dei campi sia bagnato dalla rugiata del cielo e abbia la sua parte con le bestie dei campi finché siano passati su di lui sette tempi questa è l'interpretazione o re e questo è il decreto dell'altissimo che è stato emanato riguardo al re mio signore tu sarai scacciato di mezzo agli uomini e la tua dimora sarà con le bestie dei campi ti sarà data da mangiare erba come hai vuoi e sarai bagnato dalla rugiata dal cielo passeranno su di te sette tempi finché tu riconosca che l'altissimo domina sul suo regno degli uomini e lo dà a chi vuole quanto puoi all'ordine di lasciare il ceppo delle radici dell'albero ciò significa che il tuo regno ti sarà ristabilito dopo che avrai riconosciuto che è il cielo che ne domina perciò o re gradisci il mio consiglio poni fine ai tuoi peccati praticando la giustizia e alle tue iniquità usando misericordie verso i poveri forse la tua prosperità sarà prolungata tutto questo avvenne a re nebucca da nestar dodici mesi dopo mentre passeggiava sul palazzo reale di babilonia il re prese a dire non è questa la grande babilonia che io ho costruito come residenza reale con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà queste parole erano ancora in bocca al re quando una voce discesa dal cielo a te o re nebucca da nestar si dichiara il regno ti è tolto tu sarai scacciato di mezzo agli uomini e la tua dimora sarà con le bestie dei campi ti sarà data da mangiare erba come hai vuoi e passeranno su di te sette tempi finché tu riconosca che l'altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole in quello stesso momento la parola riguardante nebucca da nestar si adempì egli fu scacciato di mezzo agli uomini mangiò l'erba come i buoi e il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo finché i suoi capelli crebbero come le penne delle acule e le sue unghie come gli artigli degli uccelli ma alla fine di quel tempo io nebucca da nestar alzai gli occhi al cielo e la mia ragione ritornò in me benedissi l'altissimo e lo dai e glorifichai colui che vive in eterno il cui dominio è un dominio eterno e il cui regno dura di generazione in generazione tutti gli abitanti della terra davanti a lui sono considerati come un nulla egli agisce come vuole con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra nessuno può fermare la sua mano o dirgli che cosa fai in quello stesso tempo mi ritornò la ragione e per la gloria del mio regno mi furono restituiti la mia maestà e il mio splendore i miei consiglieri e i miei grandi mi cercarono e io fui ristabilito nel mio regno e la mia grandezza fu enormemente accresciuta ora io Nebucadonestar lodo esalto e glorifico il re del cielo perché tutte le sue opere sono verità e le sue vie giustizia egli è il potere di umiliare quelli che camminano superbamente libro del profeta Daniele capitolo 4 grazie a tutti